La mia bottega rimanga, se serve a qualcuno è giusto che rimanga, se non servirà più a nessuno perché no? Anche se si chiuderà, cioè trovo che il gesto dell'artista deve essere sempre altruistico, fatto per gli altri. Trovo che questa è la cosa principale, un po' quello che diceva Massimo, che lui fa le sue opere come un amore veramente speciale e a volte gli dico ma cosa serve questo pezzetto di carta? E lui mi dice che c'è dentro un po' tutto il suo mondo e attraverso il suo mondo sa che farà felice qualcuno, è sicuro. Ho portato il torchietto, il primo che ho usato e chi vuole potrà stampare un bigliettino, un segnalibro, un ricordo, che è un bellissimo pensiero di Renard. Beh voglio ricordare ad esempio chi non lo sa che a Osnago c'è una grandissima tradizione tipografica. Ad esempio pochi sanno che stampavano i libri della Delphi a Osnago. Cioè una delle prime edizioni della Delphi di Siddhartha è stata stampata a Osnago. E questo beh mi sembra importante ricordarlo. Una volta a te. Ero ancora in viaggio. Grazie.